Nel giro di due mesi a Darone hanno chiuso due agenzie e viaggi, è proprio il segno della crisi dovuta alla pandemia e ovviamente al rinuncio dei viaggi. 72 anni dopo di intensa attività e premiata attività, le porte a vete della lusciosa agenzia Carigala sono rimaste definitivamente chiuse. Un fatto che ha colpito non solo la vasta clientela, ma anche i cittadini che si trovano a transitare davanti al civico 94 di corso della Repubblica. Che cosa è accaduto? Dice Gianni Carigala il titolare, ho scelto il meritato riposo, è un'attività che richiede sempre più innovazione e dinamismo. Oltre agli anni di età, dice sempre Carigala, alla concorrenza è arrivato il Covid-19 a bloccare il mondo dei viaggi turistici. Infatti Carigala afferma, dopo tanti anni nel mondo del turismo non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione così drammatica. Ho vissuto periodi di crisi economica e politica in Italia e nel mondo, dalle guerre all'attacco terroristico delle Torri Gemelle di New York, dalle catastrofi naturali come tsunami e vulcano islandese, fino alla primavera araba. Mai però mi sono trovato in un periodo come questo. Non in un solo stato, ma nel mondo intero si è fermato tutto. Poi Carigala si rivolge alla vasta e affezionata clientela. Chiedo scusa a coloro che mi hanno seguito in ogni angolo della terra. Oggi non saprei quali viaggi a organizzare. Del domani non v'è certezza. Sono fiducioso che a breve una soluzione la troverò. Poi aggiunge, insieme agli amici abbiamo camminato per le strade del mondo, meravigliandoci di tanta bellezza. Viaggiare è stato un regalo prezioso che ogni volta ciascuno ha fatto a se stesso. Viaggiare insegna a grandi e piccoli la geografia, la storia, la cultura e le tradizioni. Quindi passo ai ringraziamenti. Sperando che la situazione possa evolversi nel migliore dei modi, ringrazio mia moglie Giovanna che mi ha accompagnato in molti viaggi, mia figlia Michela che è stata al mio fianco in ufficio e le mie nove preziosi collaboratrici che si sono succedute in agenzia. Ai miei compagni Giramondo un grazie sincero per la fiducia accordatemi e un amichevole arrivederci al prossimo viaggio. Non è la sola l'Agenzia Viaggi Carigala, come dicevamo, di aver chiuso. In via Gramsci saranno chiusi e abbassate anche per l'Agenzia Le Marmotte. Grazie. Grazie. Grazie.